Albano e Romina. La verità scioccante sulla reale motivo della loro separazione è successo per colpa di E. Supposizioni, mezze verità, tante sono state le cause addotte alla fine del matrimonio tra Albano e Romina. Solo oggi arriva la verità scioccante sulla reale motivo della loro separazione. A darne conferma alcune dichiarazioni recenti. A farle, pare sia stato lo stesso cantante di Cellino San Marco che ha rivelato per colpa di chi è successa l'insanabile frattura. Albano e Romina hanno messo fine al loro matrimonio qualche mese dopo la scomparsa della figlia Lenia Carrisi. Che nel 1993 sparì da New Orleans, facendo perdere completamente le sue tracce. A distanza di poco tempo dal tragico evento, Romina Power e Albano Carrisi, desidero di scrivere la parola fine alla loro lunga storia d'amore. Fu proprio per questo, che tutti pensarono che la causa unica, o se non altro principale, della separazione, fosse stata proprio la sparizione della primogenita. La dichiarazione scioccante, che accende nuovamente il riflettore sulla separazione tra Albano e Romina. Dopo anni in cui in seguito alla separazione Albano e Romina, hanno vissuto tra cause legali, discordi e dissapori, pare che finalmente dal 2017, abbiano ritrovato una certa sintonia. I due artisti infatti, sono tornati insieme a calcare i palchi di tutto il mondo, esibendosi con una complicità tale, che aveva fatto supporre addirittura un ritorno di fiamma tra i due. A rilasciare le dichiarazioni sulla fine del matrimonio della storica coppia, tornato in auge in questo periodo, proprio per questo nuovo riavvicinamento. E' stato lo stesso 76enne, che ha dichiarato, e Romina che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi. Prima di allora nella mia famiglia, non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. E lì che è uscita l'americana che è in lei. Forse anche l'amata Cellino a lei stava stretta. Queste parole, fatte circolare da alcuni siti, hanno fatto supporre che il cantate di Cellino San Marco, si sia trovato spiazzato di fronte alle scelte dell'allora moglie, e che le abbia dovuta accogliere anche senza volerlo. E se Albano e Romina tornassero insieme? Erti e Mori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il verso di Amici Mai, storico brano di Antonello Venditti, sembra perfetto per la storia di Albano e Romina Power. Si sono amati, si sono persi, hanno sofferto una tragica scomparsa, senza mai poter scappare dalle luci dei riflettori puntati sulla loro vita. I fan li hanno seguiti con discrezione e rispetto, appassionandosi a quest'amore epico e, forse, destinato a non spegnersi mai. Dopo una lunga separazione, infatti, i due sono tornati insieme nelle vesti di cantanti, calcando i palchi di tutto il mondo. I fan sperano sempre in un loro ritorno di come coppia, che al momento non è mai stato ufficializzato. Eppure nessuno riesce a mettere in dubbio il loro legame intimo, profondo e lontano da qualsiasi etichetta. Elicità, è tenersi per mano, e baciarsi in quel modo e Se quello tra Romina e Albano è un legame che supera qualsiasi etichetta, dipende anche dalla singolare intimità che li lega. Come i fan ben sapranno, il repertorio fotografico legato al periodo d'oro di Albano e Romina è una fonte ricca e romantica a cui poter sempre attivere. Il pubblico attenzionato a quella che, forse, è stata ed è tuttora la coppia più amata d'Italia, ama rituffarsi nel passato con nostalgia e speranza. Tantissimi gruppi social e le pagine dedicate alla coppia, in cui è facile ripercorrere gli anni della loro unione e sognare un possibile ritorno. Ma i fan di Albano e Romina sono una tifoseria attenta e sensibile ai dettagli. Dietro ogni foto, dietro ogni sorriso, dietro ogni concerto, riescono a scovare le sfumature di un'unione intramontabile. Grazie 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 Grazie